Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Teleitalia con 2638 voti e 113 messaggi. La domanda posta è questa. Nessuna riforma delle pensioni, nessun blocco navale ed erano le principali promesse elettorali del centrodestra. Perché non le stanno realizzando? E rispetto al sondaggio proprio di ieri, che come risposta preferenziale era l'Europa impedisce di farle, questa volta la maggioranza risponde erano promesse elettorali, ci hanno preso in giro. Quindi c'è sempre più una consapevolezza di tanti elettori che probabilmente le promesse elettorali, blocco navale e riforma delle pensioni erano promesse da marinaio, perché la maggior parte, la maggioranza, il 36% risponde, erano promesse elettorali, ci hanno preso in giro. Al secondo posto vediamo l'Europa impedisce ad esempio di fare la riforma delle pensioni o il blocco navale, 24%, mentre il 23% risponde tranquilli, le faranno entro cinque anni di legislatura. Poi l'11% dice il governo si è accorto che non si possono fare. E il 6% risponde la Miloni ha cambiato idea da quando governa. Grazie a tutti e arrivederci a presto.